Il film che fu presentato 40 anni fa alla mostra del cinema di Venezia ha aperto la serata inaugurale del Sardinia Film Festival. Presente alla serata, il regista Piero Livi e la protagonista Mavi Baldanzello che hanno ricordato alcuni momenti della realizzazione del film. Piero Livi ripercore le vicende del bandito Graziano Mesina affrontando il tema della recludescenza della criminalità in Sardegna con lo stesso rigore che aveva impiegato in tutti i documentari prodotti in precedenza. Il film è stato introdotto dal giornalista Bruno Marella che ha ricostruito il contesto storico-sociale della Sardegna degli anni 60 focalizzando la sua attenzione tra Stato e Malavita Barbaricina. Era l'epoca delle irruzioni nei paesi, facevano perquisizioni di massa si buttavano fuori le famiglie e si svuotavano le case era un periodo terribile. Ecco, nel 69, ricordiamo che Mesina è già tornato in carcere lo Stato non è ancora soddisfatto affronta i problemi della Sardegna diciamo solo col Puglio di Ferro non affronta la riforma del mondo agropastorale e non è ancora soddisfatto e decide di militarizzare l'area di Prato Bello, di Orgoso. La presenza di un folto pubblico nel cortile del Quadrilatero ha confermato il successo della manifestazione che giunta alla quarta edizione rappresenta un appuntamento culturale importante per il territorio. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!